Oggi HP presenta il modello 2133, un oggetto estremamente accattivante in alluminio, da un display da 8 pollici e 9, display da SVGA e XGA, peso di 1,2 kg, software in dotazione a partire da Linux, Vista Pesic e Vista Business, downloadabile a XP Pro, batteria a 3 e 6 celle, dalla durata di 2 ore e 15 per la batteria da 3 celle e 4 ore e 30 per la batteria da 6 celle, modelli Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet 10 100 000, hard disk su tutti i modelli presentati in Italia da 120 giga con una flash variabile da 512 a 2 giga disponibile sui modelli top di gamma, prezzi a partire da 349 euro sensiva fino a un massimo di 600 circa, indicativi suggeriti al pubblico.